Nella linea delle canne Ultimate non poteva mancare che la log distance, una canna in trassezione fornita di quattro vette. Questa canna qui ha la caratteristica di avere un manico minimale, ossia senza il manico di sughero. Ci consentirà di lanciare pastoratori pesanti a lunghe distanze oppure per fare la pesca del barbo è veramente incredibile, sia nei fiumi d'acqua con grande portata o con dei pastoratori veramente molto importanti. Come vi dicevo è fornita di quattro vette in carbonio piena e di conseguenza ci consentirà di adottare ogni vetta ad ogni tipo di pesca. Una canna studiata per fare la pesca da gara ma perfetta per fare qualsiasi altra pesca nei fiumi. Ora vi faccio vedere le tre vette e le caratteristiche di queste vette. La caratteristica, come vi stavo dicendo, delle vette per chi pesca feeder è fondamentale. Questa canna qui viene dotata di quattro vette, una estremamente sensibile, una leggermente un po' più rigida e poi c'è la numero tre e la numero quattro che servono per pescare con dei pastoratori veramente importanti fino a 110-130 grammi. Una canna con questa dotazione vi consentirà di pescare dove voi volete e soprattutto insidiare qualsiasi pesce.